Hmm, non ho un titolo per far cominciare il video, per cui cominciamolo così. Ringo Vellisium, un gioco battle royale free to play, si trova su Steam, vediamo com'è. Allora, di questo Ringo Vellisium non ne conosco tantissimo, nel senso che ne ho sentito parlare da amici che ne parlavano molto bene quanto battle royale free to play, non avevo idea, e ho detto vabbè, proviamolo. Non c'è una vera e propria intro, perché mi sono trovato così punti in bianco a creare il personaggio, per cui cominciamo già così. Vedo che la webcam sta già iniziando un po' a laggare, vi chiedo già scusa se eventualmente laggerà anche dopo. Allora, intanto creiamo un po' il personaggio. Faccia. Non è che abbia tutta grande scelta, facciamo il mezzo cattivo. Ah, c'è anche l'espressione della serie non ammazzatemi per favore. Sembra quello per creare i sim. Ok, capelli. Ben sei capelli e non ce n'è neanche uno. Salvo. Eh, ma tra le facce che ci sono già preimpostate, sono tutti dei cantanti di gruppi coreani, sembra. Vabbè, questo qua va benissimo. Completiamo. Nickname. Vabbè, diamo semplice. Finalmente c'è anche un po' di musica. Io vorrei buttarmi dentro nella mischia immediatamente, senza neanche staccia pensare. Normale? Solo. Per forza. Start matchmaking. Beh, già trovato? Fantastico! Dai! Un per cento! Dai! Cento per cento! Yeah! Ah, ma che figata! Abbiamo dei pacchi per cui possiamo usare o l'aliante, o lo sci, o l'arrampicata. Facciamo l'arrampicata. E poi? Il punto d'inizio. Quindi tutto fatto in... Non disponibile. Tutto fatto così su una città innevata? Non disponibile. Ah, devo andare così a caso, scusate, io pensavo che quelli azzurri fossero quelli preimpostati, invece probabilmente è dove già ci sono persone. Posso cambiare. Eccola. Interessante sta cosa. Quindi non si salta giù con l'aereo come tutti gli altri, non si fa il classico drop. Tutto in un mondo innevato. E innevato anche abbastanza bene. Abbiamo anche già un fucile. Ci sarà anche la safe zone, queste cose qua? Stiamo giocando in 60 persone. Allora, immagino che con il tasto di destra si spari, con il destra si punta. Wast ci si muove, Shift c'è lo scatto, Control è la camminata, Base si salta, C si abbassa, X ho messo via l'arma, e Z ci si sdraia. Ok, abbiamo già trovato i tasti. Ma quello che mi chiedo... Allora, dove c'è il piccone rosso, vuol dire che mi posso mettere... Evac helicopter. Quindi? Repline, ok. Che è quella per... Uh, lanciarsi giù giù. Cosa devo fare? Va bene, facciamo una bella cosa. Ah, Ymir, Ymir. Prezzi in... Oh, è che c'è un tizio! Aspetta che lo facciamo fuori. Non l'ho preso ma neanche... Ma vieni qua! Ma non c'è una pistola? A me sembra di averlo preso. E poi quest'arma abbia una gittata da far schifo, quello è un altro conto. Vabbè, andiamo a luttare perché qua col fucile a pompa ci facciamo veramente poco. 46 persone. Ci si può arrampicare. Oh yeah, ma anche che belli... Guarda che c'è anche l'arma! Fantastico! Come pubg, c'è anche la... C'è anche le varie mod. Per la prima... Perché mi ha aperto la porta? Io voglio entrare dalla finestra. Questo cos'è? Il Groza! Prendiamo il Groza! Posso portare quanti armi voglio? Porca vacca! Allora, mi accorgo che sto laggando. Per cui facciamo una cosa. Abbiamo la webcam, facciamo prima. Allora, qui abbiamo anche un bel fucilozzo a pompa. Sensibilità del mouse e dovrei sistemarla, probabilmente, ormai. Allora, avevo letto che è un simile pubg, però un po' meno simulativo, un po' più... Passatemi il termine spensierato. Che cosa è successo? Ah, praticamente, anziché essere una zona dove muori, diventa ghiacciata. Ok, quindi devo andare la save zone che è dietro di me. Tra l'altro carino anche che la save zone non sia circolare, ma praticamente la mappa è divisa in vari settori e sono i vari settori a diventare, chiamiamola così, ostili. Anche se credo che diventeranno ostili a vari livelli, perché adesso siamo ancora nel livello azzurro, giallo e rosso. Poi ho appena visto che se clicco velocemente il mouse destro mi tira fuori il mirino in prima persona. Se invece tengo premuto fa la visuale in sopra la spalla. Classica dei giochi d'azione. Ma cavolo, sapete che hai fatto veramente bene? Per essere free to play, un simile pug? Poi con questa storia che ti ci puoi muovere come vuoi tra la neve, con lo snowboard, eccetera. Chapeau ragazzi, chapeau! E ci sono anche le mod, più di così. Io continuo a parlare guardando la telecamera, ma in verità è inutile, perché l'ho levata. C'è gente? C'è gente a cui posso sparare? Non mi sembra di vedere nessuno. Anzi, alziamo anche un po' il volume del microfono, perché sennò qua non mi si sente quando parlo. Allora... E niente, torniamo qua. Tra l'altro mi sono reso conto solamente adesso che non so perché me l'ha fatto così in 16 noni con le due barre nere sopra e sotto. Bah, vabbè. Oggi OBS fa un po' quello che vuole. Può entrare nella roulotte? Non si può assolutamente entrare. Allora, per doveri di cronaca dal punto di vista tecnico. Settings. Come siamo messi? 1920x1080 con il sync attivato, qualità standard, realistico. Si può anche mettere in altre lingue? Sì, il cinese, ce ne sbattiamo. Qualità, tutto standard. Direi che siamo su un livello medio, anche se in verità per alcuni altri giochi free-to-play sarebbe anche un livello alto. Cos'è, 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 cos'è? Ci sono anche veicoli! Fichissimo. Beh, allora sto conto usiamolo. Magari lontano dalla strada. Portiamo di qua, guarda. Andiamo a vedere in quelle case lì. Beh, oddio. La grafica è molto alla PUBG, eh. Però questo è gratis. Quindi, PUBG, prendi e porta a casa. 36 persone ancora vive. Cos'è questo? Sempre il fucile a pompa. Una K47. Sempre morire come il loot venga buttato così. Oh! Un giubbotto antiproiettile. Qua cosa c'è? L'elmetto. Una bella mod. Interessante che mettano... O meno, credo. Ah no, mi sa che queste cose gialle siano il livello di rarità. Perché non mi sembrava che le altre mod fossero azzurre. Andiamo a vedere l'altra casa. Sì, tutto bello, tutto simpatico. Poi per adesso io non c'è ancora un nemico. Perché... A parte quello a cui ho sparato prima e l'ho mancato malamente, non è che abbia fatto qualcosa. Ma che sia il caso di camperare. Siamo arrivati in 35. Siamo partiti in 60. Per cui siamo più o meno a metà. Come siamo messi sulla mappa. Ah, infatti qua è adesso diventato giallo. Per cui si vede che anziché esserci il fronte che passa, come succede nelle altre parti, cosa diavolo è successo? Airdrop. Come succede nelle altre parti, qua semplicemente tutta quella zona diventa sempre più fredda. Nice. Andiamo a quella Aershell Academy. Secondo me lì si spara di brutto. Certo, avrei potuto prendere il fuoristrada. Ma perché privarsi di questo piacere? Sto andando nella parte giusta. Posso mettere un... Un checkpoint, un qualcosa, no? Ah sì, col tasso destro. Perfetto, almeno così non devo stare a guardare la mappa ogni due secondi. Questa qua credo che sia roccia, perché dà un suono troppo solido per essere neve. Infatti. Lì c'è un fuoristrada, ma mi sembra tanto una trappola. Peccato che non ho neanche un... Mirino. E soprattutto... Ah, è quello qua come si apre l'inventario. Con il tab. No, assolutamente neanche un mirino. Allora, noi siamo scemi, ma non così tanto facciamo il giro da qua. Vabbè che tanto siamo vestiti di nero sulla neve. Vabbè che tanto siamo vestiti di nero sulla neve. Ci si spotta tranquillamente, senza grossi problemi. Oh, la gente inizia a morire. 32 rimasti. Il prossimo sarò io e vi dirò anche come. Colpo di fucile da cecchino in testa. Tra l'altro tra 5 secondi droppa ancora la temperatura. Porca vacca. E sono fuori zona. E allora andiamo di là. Siamo rimasti in trenta a ballare l'alligalli, però... Sì, mancano anche 5 minuti quasi. Al restringimento di zona direi che ce la potremmo anche fare. Quindi se tanto mi da tanto, io direi... Presumo che praticamente la zona si restringerà sempre di più finché poi non ci sarà una zona sola in cui ci sarà l'elicottero per poter scappare. Se così fosse... Roba figa. Anziché avere questa zona che diventa sempre più piccola. Avere un obiettivo così... Dettagliato... Oh, un per due. Mettiamolo su. Lo prende? Sì, ma tanto serve a nulla. Però ci abbiamo anche il primo soccorso. Avere un obiettivo così specifico su cui andare... E' una cosa interessante. Una piccola variazione sul tema che fa sempre piacere. Bella sta siepe. Tra l'altro ci sono meno 7 gradi. Un po' come in questi giorni la mattina a Milano. Ui, mi ha fatto bene un colpo. Allora, il red dot. Però il red dot lo userei con quest'altro. Guarda lì che è passato uno. Cacchiarola che rinculo. Un po' più un rinculo potente, eh. Non me l'aspettavo. Ma aspettavo un qualcosa di più stabile. Vabbè, direi che dopo aver fatto questa stupidata possiamo anche andarcene. Speriamo che non ci becchi nessuno. Eccolo là! Chi è? Maledetto! Bene. Molto bene. Che figura?